C'eravamo lasciati fine 79 quando il comandante subentrante mi ha detto grazie e vai all'addestramento di aerobrigata per cui comincia una nuova era per me, sono responsabile dell'addestramento dell'aerobrigata, cerco di utilizzare l'esperienza fatta al cinquantesimo con il nuovo criterio di addestrare il personale con i nuovi schemi e tutto anche agli altri gruppi e trovo grosse resistenze anche perché poi subito al cinquantesimo andato via non dico si è tornati a 4-5 anni prima ma quasi perché il problema rimaneva che i piccoli adoravano quel sistema perché si sentivano protetti e sicuri di progredire l'addestramento. Gli anziani e quelli più diciamo desiderosi di mettersi in evidenza non gradivano quel sistema per cui era difficile imporlo in aerobrigata e nessuno dei comandanti ha voluto firmare documenti o carte che imponessero quel sistema che non era soltanto ugualitario in modo che tutti facessero le stesse attività, c'era anche un discrezionale perché non tutti possono fare alcune missioni. Va bene, quindi l'80 comincia questa nuova responsabilità dell'addestramento, contemporaneamente continuo a fare il pilota Mavs, uno dei quattro equipaggi Mavs operanti e sono pilota esperto sul C-130 e poi non ultimo in quegli anni 80-82 mi tocca un'altra attività che è quella come avevo accennato di direttore in pratica del più grande supermercato militare italiano e uno dei pochi funzionanti all'epoca primi e poi hanno funzionato per diversi anni. In molte le parti non si è visto nemmeno l'ombra di un'attività del genere. Da un punto di vista operativo ovviamente io sono sempre lì, come si dice in gergo, appizzato per qualche volo che posso fare quando c'è la possibilità. E quello l'anno 1980 in cui c'è un'altra svolta nell'aerobbricata. Incominciano ad assegnare al reparto attività operative un po' più vere, pesanti. Ritorna in auge un'attività nato che era cavallo pazzo mi sembra in tedesco, schwarz orso, una cosa del genere, cavallo nero, schwarz orso o qualcosa. Che era un'attività di aviolanci notturni in pratica nelle prealpi o nelle Alpi addirittura, cosa che fino a quel momento non si erano mai fatte. Per cui cominciamo questa attività e subito dopo all'orizzonte del 1981 appare il volant rodeo. L'abbiamo accennato in qualche filmato precedente, ma il volant rodeo è una svolta anche quella decisiva per la parte tattica del reparto. Vivo ringraziare per questa parte uno dell'aerobbricata che lavorava a SMA. Ne abbiamo parlato. Era il tenente colonnello Chiodi. Lui era a SMA terzo reparto e gli capita sotto mano questa attività. Ossia gli americani mandavano tutti gli anni l'invito a partecipare a questa gara internazionale di velivoli tattici da trasporto. E fino a quell'anno qualcuno aveva, come si dice in gergo, affossato la richiesta. Ma che devono fare? Gli normali da trasporto servono per altre cose. Invece Chiodi prese questa richiesta e cominciò a svilupparla. Interesso Pisa, ma soprattutto la fece approvare a livello SMA come partecipazione. E quindi arrivò questa ciliegina a Pisa di questo rodeo. Che cos'è il volante rodeo? È una manifestazione tattica, militare e diciamo anche sportiva. Ci partecipavano, perché non so se l'ultimo evento che mi ricordo del rodeo, io ho fatto due rodei. L'81 come equipaggio in supporto, membro in supporto all'equipaggio e l'86 come giudice di gara. E poi c'è stata qualche altra edizione, ma oggi non so se continuano. All'epoca si trattava che si trovavano sullo stesso aeroporto, Pope Air Force Base in North Carolina. La base è detta la casa del paracadutista. In America è tutto grande. Si operava in un poligono che era grande quanto la regione Lazio, per dare un'idea del significato. un aeroporto che bisognava mettere i dieci più grandi aeroporti d'Italia messi insieme e facevano Pope Air Force Base. Sul piazzale quando siamo arrivati, in quei giorni della prima gara a cui ha partecipato in Italia c'erano dai 18 ai 22 C-130, 7 o 8 C-142, un Galaxy ma non partecipava alle gare, un Transal e un Buffalo. Questi erano i concorrenti. Come nazione partecipante chi la faceva da padrone erano gli Stati Uniti. All'epoca avevano sei stormi da trasporto sul C-130, quattro sul C-141, per cui dieci posizioni li occupavano già loro. E poi c'erano 12-13 paesi stranieri. Ricordo, oltre a noi, gli inglesi, i tedeschi col Transal, i portoghesi, i brasiliani, i canadesi, l'argentina, chi altro c'era... australiani, neozelandesi... insomma era una bella atmosfera. Quando la sera che si smetteva di volare al tramonto era una cosa simpaticissima. Perché c'erano migliaia di piloti, specialisti da ogni parte del mondo e ovviamente il volo andava in secondo ordine. venivano fuori goliardie, venivano fuori nazionalismi... insomma era una bella atmosfera. Si partecipava con un equipaggio, un team di specialisti, perché anche loro andavano sotto torchio nelle gare, e un team dell'esercito. Ognuno di questi team aveva le sue gare. I piloti facevano tre navigazioni, tre atterraggi d'assalto, tre aviolanci. Un aviolancio personale, aviolancio di contenitori e l'aviolancio con un mezzo pesante, che poteva essere un cippone, un furgone medio-grande, un autoblindo... dipendeva. Per i contenitori l'autoblindo era facile. C'era una X per terra, dove arrivava il carico, si misurava la distanza dalla X al carico. I punti massimi ottenibili erano mille. Se uno arrivava a mille piedi dalla croce, prendeva zero. A 999 prendeva uno. Se beccava la croce, prendeva mille punti. Il problema era il personale. Quando si lanciavano gli uomini, valeva solo il primo uomo alla porta. Al verde il primo uomo si butta e il primo uomo dall'uscita al toccare terra veniva monitorato con i cannocchiali, perché non doveva toccare le funi. Non poteva manovrare. Doveva fare il sacco appeso al paracadute. E quindi dove andava a cadere, anche lì il sistema. Gli atterraggi d'assalto, stessa cosa. C'era la linea del massimo punteggio dei mille punti, dove bisognava mettere il carrello principale sopra. Poi c'era una linea di 300 piedi prima, dove si prendevano 300 punti se prendevi quella linea. 0 se andavi a toccare prima, e poi ogni piede in più oltre la linea si andava a scalare da 1000 fino a 0. Quindi contare il punteggio di una prova era semplicissima. Poi sulla testata pista c'erano sempre due o tre persone che si controllavano e stavano lì a pochi metri dal carrello del 130. Perché poi l'atterraggio non era sempre sull'asfalto, era pure su piste semipreparate, quindi era terra rossa. Con tutti gli zip delle gomme sull'asfalto non era semplice andare a vedere qual era stato il punto di contatto. E poi a bordo c'era il giudice, un pilota istruttore o pilota esperto di 130, che guardava se il volo veniva fatto in sicurezza. Guardava se i punti di virata a terra venivano riconosciuti. Per cui bisognava mostrargli il punto di virata, che sono Ponticello, Pincopallino, bisognava indicargli il punto. E poi valutava, oltre al punto di contatto, l'assetto finale dell'aeroplano e la rotazione dell'atterraggio d'assalto. Proprio per evitare che qualcuno potesse arrivare piatto. Ed è più facile toccare dove si vuole quando si arriva a piatti, si toglie motore, l'anurano perde velocità e tocca. Gli specialisti invece avevano del loro bel da fare perché c'erano delle ispezioni che venivano fatte, tipo il prevolo oppure un'ispezione particolare. E c'erano i tecnici che valutavano la polizia dell'aeroplano. Si perdevano punti se qualcuno trovava, non dico un granello di polvere, non per esagerare, però ci sono per esempio quei finamenti di alluminio delle frenature. Quindi parliamo di pezzetti di alluminio di 2-3 mm di grandezza. Se veniva trovato uno di quelli nelle rotaie del 2RL, che sono i binari, si rischiavano punti. Poi c'erano le prove di carico e scarico rapido. Portellone aperta, rampa aperta, arrivava un gippone o una camionetta, bisognava caricare, bloccarla, legarla. Chi faceva meno tempo e in sicurezza otteneva punti. E poi c'era l'esercito, l'esercito c'erano le sue aree, le corse nella foresta lì, con zaino, senza zaino, l'occupazione di aree per l'infiltrazione dei paracatutisti. Insomma, erano belle gare. Noi il primo anno abbiamo fatto bene quasi tutto, il problema è stato l'atterraggio d'assalto. L'81 arrivò Chiodi, lo stesso che aveva sponsorizzato tutta questa attività, era comandante di gruppo e lui era il capo equipaggio. Il problema era che lui era tre anni che mancava la Pisa. aveva perso quella dimestichezza, era istruttore C-119, è andato via da pilota C-130, però aveva perso quella mano che ci vuole un po' più sensibile. Chi aveva quella mano su quell'aeroplano eravamo in due. Io e il mio compagno di corso Gigi Catani. Gigi era anche istruttore, tra l'altro. L'equipaggio era formato da Chiodi, Catani, io e Ciccione, uno dei primi navigatori che veniva da Complemento, che è diventato un monumento nazionale a Pisa come navigatore e poi capo equipaggio. Ovviamente loro stavano un bel po' di anni più di quelli dell'Accademia. Arrivamo cinque giorni prima dell'inizio gare per familiarizzare tutti. Chi non era mai stato da quelle parti aveva questa possibilità di familiarizzare, soprattutto con le procedure in questa grande area di esercitazioni. Volavi, ma vicino a te c'erano altre esercitazioni, non solo di velivoli da trasporto, anche velivoli aerotattici caccia, esercitazioni a terra con carri armati e quant'altro. Insomma, quando volavi e guardavi giù ti sembrava di vedere un film di guerra, per darti un'idea. E quindi in quei giorni, in pratica io e Catani, cerchiamo di convincere Chiodi a fare il capomissione, lasciare stare il discorso pilota. Arriviamo la domenica, mi ricordo benissimo, stavamo a fare colazione al golf club di Pope Air Force Base. E cominciamo Chiodi a far volare come capo equipaggio uno dei due. Io per me non ero un problema, per cui mi battevi anche per il mio amico Gigi Catani. E andammo via che si era convinto. Quindi domenica sera, cena tutto a posto, lunedì mattina, al briefing, doccia fredda. Andrea Chiodi, ci fa ragazzi, ma che figura faccio? Io sono il comandante di gruppo, capomissione, sono pilota del C-130. Non posso via non pilotare io, c'entrava niente, lì ogni team c'era il suo capomissione e che non voleva mollare, voleva provarci. Era logico e naturale, le cose del genere, quando capitava un evento simile. L'equipaggio quello attivo era Chiodi, capo equipaggio, Catani secondo pilota e io lavoravo dietro perché dietro da navigatore c'è la parte un po' più pesante insieme a Ciccione che era novellino all'epoca. Cominciamo questa attività, otteniamo il massimo dei punteggi nelle navigazioni, ottimi punteggi su chiavi o lanci e purtroppo solo un atterraggio su trev riesce bene. Negli altri due prendiamo pochi punti e arriviamo, se non sbaglio, terzi per una manciata di punti. Cento punti non sono niente, perché lì si vinceva mettendo alle spalle migliaia di punti in pratica. Però l'esperienza fu bellissima, fu talmente avvincente che i primi a essere invitati negli anni successivi erano gli equipaggi, lei era un collage italiano. E un motivo c'era, perché fu l'unica nazione che durante la settimana organizzò un party all'italiana, per cui ci mettevamo cinque o sei di noi. C'era il mio amico Marzio Lutero, che lui era un ottimo elettromeccanico di bordo, ma con la cucina ci sapeva fare. Per cui lui, direttore di menza, in sei o sette organizzavamo una carbonara per, mi ricordo, 350-400 persone. Ma questo è grazie alla struttura del circolo sotto ufficiale che stava lì. C'avevano dei pentoloni da 200 litri, che ne so. Aprivi il rubinetto e usciva l'acqua a 95 gradi. Quindi noi dice, bolle l'acqua, aspetta che buttiamo la pasta. Lì era un continuo. C'erano questi vassoi rettangolari da 50 porzioni di pasta. Non mi ricordo le uova usate e purtroppo quello che non c'avevamo era il guanciale. Dovemmo usare, mi dispiace per i gourmet, pancetta meriana e il parmigiano da grattugiare. E noi c'erano una macchinetta per cui le uove da rompere, quelle sì. Li organizzavamo e poi ci portammo in vino quello famoso che io come direttore del supermercato avevo acquisito che era il gallo nero, un chianti gallo nero della Castelgreve. Era il nostro Fiorallo Cheallo. Con il giglio di Firenze davanti e dietro l'etichetta della 46esima brigata aerea. Ma soprattutto di Trudite era l'unico party dove da bene non si pagava. Perché negli altri party organizzavano qualcosina ma tutto quello che era beveraggio era pagamento. Da noi il vino scorreva, come si dice, a fiumi. Per cui dopo quell'avventura il primo da invitare per il volante è l'Italia. e loro convinti che fossimo degli outsider. La storia ha voluto che in sei partecipazioni abbiamo vinto due volte il massimo dei trofei e diverse volte il trofeo della protezione o quelli dei ragazzi dell'esercito. Quindi quelli che potevano sembrare degli outsider sono arrivati on top in pochissimo tempo. Poi con queste attività venne fuori un'altra moda. Quando si atterrava e si faceva un'attività tattica per salutare il rientro si apriva la botola di escape in cabina e si mettevano fuori le bandiere. Quindi noi avevamo la bandiera del tricolore e poi avevamo la bandiera del gruppo. Quindi un pezzo di stoffa giallo con la cornacchia e scritto cinquantesimo con la stella Vega. E questa abitudine ancora oggi la si vede con gli aeroplani che arrivano. Aprono il finestrino se non hanno la botola sopra. Noi siamo avvantaggiati e si espone la bandiera. Nacque in quell'occasione. In quell'occasione nacque anche un'altra cosa. quella che ho battezzato con il nome di Pappa. Battuglia acrobatica pesanti. Gli americani quando fanno le cose loro le fanno in modo hollywoodiano. Fu spettacolare la cerimonia d'apertura. Ci furono i passaggi di aeroplani, ci fu il passaggio di un C5. Poi arrivarono tre C141 in formazione in tre abbastanza stretta. Ma per loro, per noi erano a distanza di cannucchiali. E poi arrivarono tre C130. Sia i C141 e i C130 infatti fecero questo passaggio sulla pista verso i tre quarti pista quindi davanti agli spettatori al grosso della folla. si aprirono a Giglio. In pratica il leader tirò su dritto. Il grigario di destra 30 gradi a destra. Pitch up e saliva e sinistra saliva. E quindi si aprì a ventaglio. E' qualcosa che vediamo oggi nella pattuglia acrobatica quando fanno la figura della scintilla. a destra scintilla che la pattuglia arriva. A un certo punto il lessorista si infila sotto, innesca e la pattuglia si apre a ventaglio. Quelli erano in tre e si sono aperti a ventaglio e hanno fatto questo giglio. Poi si sono presentati in formazione, come si dice, a echelon o sulla stessa ala, in tre, apertura e atterraggio. Ma soprattutto il tutto veniva presentato da attori hollywoodiani. C'era lo speaker militare, ma alla prima esercitazione c'era Bo Bop, il comico. C'era il biondino di Miami Vice, non ricordo il nome. E poi c'era Brooke Shield, l'attrice di Laguna Blu, che si è trattenuta tutta la settimana lì. Quindi le cose erano fatte veramente, non eravamo a Las Vegas, ma insomma si era venuto a fare. E mi cominciò a malenare in mente questo discorso di fare qualcosa di simile. Per cui tutto il volo di ritorno io l'ho passato grazie al cielo, non facendo il navigatore, non facendo il pilota perché non c'era da fare niente seduti davanti. L'ho passato sul divanetto o nel compartimento di carico. Con fogli di carta io ho cominciato a mettere giù il programma della PAP, della pattuglia acrobatica pesante. Quando arrivai a Pisa, diciamo due giorni dopo perché facemmo solo stallages, il programma era fatto. C'era soltanto da fare le prove. C'erano tutti i tempi al secondo di ogni singola manovra, di ogni singolo evento. Altezze, velocità, tutto, distanze. Mai come in quei due giorni sono stato un certosino. Già abituato con i numeri, rotte, prue, suote. Però lì si lavorava in pattuglia stretta, bisognava essere più precisi possibile. Quando incomincio a parlarne con i miei compagni di corso, il primo problema è chi sono gli altri due. Oppure gli altri tre perché la cosa migliore sarebbe stata addestrare quattro piloti, tre operavano e uno di riserva. non è che volessimo andare in giro per l'Italia a fare la robazia con il 130, ma in alcune situazioni particolari si potevano fare. Che ne so, a Pisa quando c'è la Manfrina si fa la manifestazione aerea a Pisa, quello era un momento. Un altro momento poteva essere il 75ennale a cui ho partecipato. Un momento poteva essere il centenario di quest'anno. Non è una cosa che non esiste al mondo, una pattuglia con velivoli da trasporto. E cosa avevo tirato fuori? Era semplice. Si cominciava con un decollo in tre a quattro secondi. Normalmente il decollo per le formazioni tattiche si fa a 10 secondi o addirittura a 15 una volta. Invece si poteva tranquillamente fare a quattro secondi. Il leader si posizionava sul centromista, il gregario di destra si prendeva la mezzeria di destra, quindi avrebbe fatto la corsa di decollo quasi al limite dell'asfalto. salvaguardando i cinesini. Per chi non è pratico di aeroporto i cinesini sono le luci che hanno un cappello giallo sopra e vengono chiamati in gergo cinesini. quello di sinistra a sinistra, a quattro secondi uno dall'altro, decollo. Decollo, decollato a quattro secondi, in pratica fondo pista, vinata a destra di 30 gradi e nel giro di massimo 20 secondi il 2 e 3 sarebbero arrivati in ala al leader. Inversione, chiamiamolo cappio, si ritorna sulla pista, formazione a tre, stretta. e quindi la seconda figura sarebbe stata l'apertura a Giglio, non come quella fatta dagli americani, ma uno un po' più rilevante. nel senso che il leader, arrivato all'altezza della tribuna, dove c'era più gente, tirava su almeno di 30 gradi iniziali, tipo il decollo d'assalto. e saliva su dritto fino a che poteva. Il 2 e il 3, 45 gradi, 25 gradi di pitch up, quindi ci sarebbe stata una bellissima apertura. questi aeroplani di 40 metri di apertura alare e boom, all'unisono si aprono. L'attività più semplice è quella del leader, perché ha il suo programmino da volare. poi c'è il 2, che sarebbe stata la mia posizione, il 2, e il 3 che volava a specchio col suo 2. Fatta l'apertura, questo Giglio, la figura successiva sarebbe stato l'incrocio sulla pista. Allora abbiamo detto, il leader tira su, fa un cappio, viene all'atterraggio e anziché atterrare, vola lungo l'asse centrale della pista. Il 2 e il 3 va ognuno sul proprio lato, entrano in sottovento, in pratica, e si inseriscono in finale contro il leader, che viene dall'altra parte. Il leader si piazza a 50 piedi sulla linea della pista, in un senso. 2 e 3 usano come riferimento il bordo pista, a 100 piedi, e quindi qual è la figura? La figura è l'incrocio. Sulla pista contemporaneamente si vedrà, si vede un C-130 che passa a 50 piedi sulla pista, gli altri due di lato, l'impressione è come se l'uno si andasse a infilare in mezzo al 2 e al 3. Fatto questo passaggio, viene la figura del ricongiungimento al decollo. Anche qui, di nuovo, il leader questa volta fa un altro cappio, perché il bello di una manifestazione per gli spettatori è quando gli anulani sono a vista. Se tu vai fuori le 3 miglia, quasi sempre perdi e non vedi niente. Se invece si rimane sulla pista, lo spettatore è felice, vede quello che succede e può valutare la bellezza di una figura. Quindi il leader, fatto il passaggio 50 piedi sulla pista, fa il cappio di nuovo, questa volta a terra, contro pista e si presenta pronto al decollo. Il 2 e 3 hanno fatto il loro passaggio, rientrano in sottovento e vanno di nuovo, si presentano di nuovo in finale. E la figura qual è? La figura è quella che il leader decolla, stacca il carrello da terra e immediatamente gli arrivano in ala il 2 e il 3, come se ci fosse un ricongiungimento al decollo, come se il 2 e il 3 prendessero da terra il leader e lo portassero in volo. Dopodiché si mette a bastone, c'è la trasformazione della pattuglia da 3 ognuno rispettiva ala, si passa a bastone, apertura e atterraggio. Anche qui apertura a 4 secondi, tipo aerotattici, atterraggio e finiva lì. Il tutto sono circa 22 minuti e si svolge in distanza massima dal centro pista 4 miglia, non di più. Quindi si sta sempre a vista degli spettatori e poi le parti saliente, il clou di ogni manovra, avvengono sulla pista. Faccio questo programmino, ne parlo col comandante di gruppo, sia con Chiodi, ma Chiodi ormai, noi siamo rientrati che era, mi ricordo, fine giugno, inizio luglio, a ottobre c'era il cambio di gruppo, il cambio di comando di gruppo. Arrivava Maini, Riccardo, ne parliamo pure con lui, lui però è contento, non era molto contento col fatto che gli dico facciamo alcune prove senza di niente al comando. vediamo prima come funzionano le cose. Per cui lui accettò questo periodo di silenzio, chiamiamolo, ma senza programmare i voli. I voli li tiravamo fuori all'occorrente. Uno di noi aveva gli aviolanci, finiva dieci minuti prima l'aviolancio, quell'altro aveva l'addestramento, ci riunivamo a Pisa e riuscimmo a fare tre voli. Due con soli due aeroplani. Era importante lo stesso, perché tanto l'importante è che l'attività venisse calcolata con l'IDER ai vari tempi e il gregario di destra, perché il gregario di sinistra lavorava a specchio. Quindi presi i tempi con due, non c'era il problema per il terzo. E facevamo una sola prova con tre aeroplani. E poi successo quello che non doveva succedere. Il capo ufficio operazioni all'epoca era il colonnello Tesolatto, se non sbaglio. Colonnello nel senso, non mi ricordo se era colonnello o tenente colonnello. La palazzina a comando dove c'è l'ufficio operazioni, in pratica è di fronte alla pista, si vede la pista. Tesolatto notò questo strano volo sulla pista e immediatamente chiamò il gruppo. Che stava a succedere con quegli aeroplani? Ma Eni fece finta di niente, che non sapeva niente e mi disse vai a rispondere te a Tesolatto. Ma da rispondere a Tesolatto che dico una mezza idea stava... Tesolatto ce l'aveva avuto come comandante di gruppo, quindi mi conosceva abbastanza. Però diciamo che non gli garbavo ma non aveva la forza di contrapporsi. No no, disse avvisiamo subito il comandante del reparto volo, che era il colonnello Bellucci, che era pilota ed ingegnere. E poi era uno tosto Bellucci. Bellucci era uno di quelli che, io me lo ricordo Capo Chimazzo, il 119. Lui si infilava col 119 tra le code, la doppia coda di quello che gli stava davanti. Quindi era uno che, per il volo, diciamo alcuni aspetti li valutava molto. Bellucci soltanto che era una bravissima persona e soprattutto un buono e un credulone. mi disse, guarda, mettiamo tutto per iscritto. E siccome lasciano già il programma per iscritto, ok, dammelo. Io faccio una lettera d'accompagnamento a SMA, stato maggiore aeronautica. E ci facciamo approvare questa pattuglia da utilizzare in eventi particolarissimi. perché le energie del trasporto sono sempre centellinate. Ai 10 aeroplani arrivano 20 voli. Ai 100 voli arrivano 1000 voli da fare. Un'esigenza sempre superiore alla disponibilità di aeroplani. E ovviamente, come si pensava, non solo negarono la faccenda, ma non si degnarono nemmeno di rispondere. Silenzio assoluto. E per certe cose il silenzio assenso non vale, purtroppo. E la papa morì così. Ci furono delle foto fatte dall'amico Paolo Farina, che è un giornalista appassionato di aeronautica. E lui non lo sapeva di questa attività. Stava sull'Aurelia e vede in macchina qualcosa che non gli garba. Ferma la macchina e comincia a fare le foto. Poi viene in aeroporto e in pratica io mi ritrovo le foto, due o tre foto di questa attività involontariamente. Sono state pure pubblicate da qualche parte. E quindi questa è la papa. finestra di aeronautica dell'azun sviluppo il nostro理. quest'un si migliore deposito. Perciò che le fac taxeionale tipo di aeronautica.